Siamo contenti di annunciare questo grande investimento del gruppo AVS, un investimento di circa 33 milioni di euro, i cui 15 agevolati a Regione Puglia, che pone al centro di una nuova sfida, la sfida che abbiamo posto con la strategia della Blue Economy, ossia della Puglia come polo logistico. È un investimento che guarda le competenze, quindi a generare un centro nevralgico, le competenze di ricerca e sviluppo dell'impresa, ma anche e soprattutto grazie alla collaborazione del Politecnico la possibilità di dare opportunità a tanti giovani di trovare il loro futuro in questo territorio. A questo si aggiunge la possibilità di un investimento produttivo legato al sistema manifatturiero e che quindi pone la Puglia al centro del Mediterraneo in una scelta di una multinazionale di rivedere la sua collocazione. Noi siamo contentissimi di essere non solo il sud dell'Italia, ma il centro del Mediterraneo e convinti che questa strategia ci porterà ad attrarre nuovi investimenti.